porca miseria porca miseria salve ragazzi benvenuti nel mio canale oggi ragazzi come potete ben vedere siamo qui su farming simulator 17 nella mappa de terra italica di nuovo qui alle prese con la raccolta del cipato insieme al nostro collega che è di ritorno dalla vendita buongiorno a tutti ciao simulator grazie come sempre dell'invito a lavorare su questa mappa figurati sei pronto per scoprire chi vincerà la nostra scommessa certo ecco secondo me non vinciamo io ne te io ci stavo dicendo chi vincerà questa scommessa i polli secondo me nessuno raga perché da quello che più o meno abbiamo percepito credo che di gran lunga abbiamo superato sia i 5 milioni che i 6 milioni di litri e non abbiamo ancora finito eh quindi ci aspettavamo sicuramente molto meno di quello che poi effettivamente abbiamo fatto d'altra parte ottima cosa perché comunque se abbiamo fatto più di 6 milioni insomma il ah è arrivato anche qua ottimo allora fate pure quella strisciolina allora abbiamo terminato il 49 il 23 il 42 il 41 il 33 il 14 adesso ci dirigiamo verso il 55 e il 56 così almeno terminiamo finalmente sta raccolta qualcuno di voi nei commenti mi ha detto guarda che in realtà nel 19 i pioppi ricrescono e in teoria anche nel 17 così ma per essere sicuro controlla nella mappa per vedere se ti da la texture del mietuto o la texture del in fase di creazione in realtà attualmente vi faccio vedere mi da mietuto ma ciò non toglie che magari mandando leggermente avanti ridia di nuovo la texture della fase di crescita ma questo non ci interessa perché dopo tutta questa grandissima quantità di cippato che abbiamo fatto non stiamo a rifarlo di nuovo per il momento non stiamo di nuovo a raccogliere quindi arriamo comunque tutto una volta terminato e seminiamo poi la prossima coltura che in teoria non so quale sarà ancora in realtà avevo in mente le barbabietole da zucchero perché forse è l'ultima coltura che ancora ci rimane da trattare se non erro adesso devo fare un attimino mente locale capire un attimino quali sono state le colture che abbiamo fatto ma mi pare che ah no avevamo detto in realtà sto dicendo una cavolata perché sto dicendo una grandissima cavolata perché avevamo detto che facevamo la scorsa semina che poi l'abbiamo fatto più oppi facevamo gira soli io le cose me le ricordo eh non è anzi qualcuno di voi nei commenti mi ha fatto addirittura i complimenti perché mi ha detto finalmente qualcuno che le cose se le ricorda hai capito non sono come oh ho finito finito fermo fermo ok vai avanti non sono come non sono come non sono come stan che le cose sembra che non so gli entrino nella testa dopo un secondo bom sparite non si sa non si sa dove finiscono io le cose me le ricordo entrano e entrano e escono da un orecchio entrano da un orecchio dall'altro escono subito quindi facciamo gira soli giusto per essere giusto per essere un secondo finisco il discorso facciamo gira soli così almeno completiamo il circolo della della semina che avevamo in mente già da questa semina qua dica no stavo solo per dire visto le tue difficoltà a salire devo dire che sto qua è un po' difficoltosa è un bel po' si e anche lagga un pelino accidenti non riesco a salire qua eh devo dire la verità no mi sono rimasti 3426 litri per sbaglio mamma mia che stress vabbè vado così va anche se ci sono questi 3.400 no l'ho fatta volevo chiedere la strada volevo eh te sei un furbastro io lo so guarda non ce l'ho fatta questi soldi li investiremo sicuramente in mega trattoroni perché voglio iniziare ad avere molti più campi ovviamente ci aiuterà stea a fare tutte queste mega lavorazioni guarda che quei 3 campi che avevi ti potessero bastare no che ne volessi ampliare voglio arrivare alla fine della serie almeno con 20 campi guarda tu quasi quasi poi quando abbiamo 20 campi ti faccio arare con il cingolato e il nardi due vomeri che ne pensi eh te li faccio arare tutti i 20 col nardi due vomeri lei può propormi qualsiasi lavoro però poi sì 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 bisogna vedere se poi accetti dici te esatto vabbè ma secondo me dietro compenso economico secondo me lei cede secondo me lei cede secondo me lei cede non si preoccupi porca miseria bene 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 guarda adesso resti là adesso resti là no ste no spero che stessi registrando sì sto registrando no ste no e niente questa è la circostanza una brutta circostanza no ma oltre a essermi incastrato col cassone mi sono incastrato anche con la trincia mi sono incastrato nel cassone con la trincia c'è vediamo come sei messo ammazza oh non lo so non mi chiedere niente ti prego di fatto ridurti così non mi chiedere niente per cortesia non mi chiedere niente non mi chiedere niente togliti 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 aiuto ma che stai combinando ma io vi dico come hai fatto a ridurti in questa maniera ste io me lo chiedo proprio io stavo bello tranquillo andando a vendere come hai fatto ad andarti a ridurre in questa maniera io me lo chiedo che parto complesso questo è un parto trigemellare trigemellare eh si io sto cercando anche di agganciare la lama però un parto quattro assi direi ok ci siamo è libero signora è nato è nato signora è nato è nato basta basta signora è nato vai vai mi scarico io direi che te lo no no direi che te lo sei guadagnato te lo sei guadagnato mamma mia raga che lavori che lavori non so quanto sia passato che lavori che mi toccano fare però eh siamo arrivati quasi è una vita quasi a quattro milioni ma ma siamo sicuri che non sia un reato fare un lavoro del genere perché quattro milioni di euro raga eh a questo punto ci meritiamo due mega trattoroni io e il buon ste che poi decideremo cercheremo di prenderlo con l'imprinting italiano perlomeno ma sicuramente due mega trattoroni chissà che non li prendiamo direttamente in questa puntata perché volevo in realtà iniziare la lavorazione eh di presemina quindi se eventualmente aratura o robe del genere quindi vai io sto facendo lo slalom sul campo per cercare di salire piano piano faccio lo slalom raga non ci credo non riesco a salire da nessuna cavolo di parte mi tocca fare lo slalom sul campo 10 per salire vediamo ottimo allora abbiamo in teoria finito eh tutti i campi ci rimane giusto il 56 una metà circa del 56 poi finalmente abbiamo concluso dopo un'ora e dieci minuti di registrazione continuativa quindi ci abbiamo messo all'incirca un'oretta di gameplay a fare tutto ma il gameplay ovviamente come avete notato dal minutaggio non è finito qua vedete che ci manca ancora il 56 tempo di completare il 56 poi prendiamo il mega acquisto che vi ho promesso perché in realtà ho deciso di prenderlo con tutti questi bei soldoni qui mi sembrerebbe anche brutto non prendere nulla e partiamo sì esatto partiamo almeno almeno iniziamo con non so se bisogna effettivamente arare oppure no in realtà no in realtà ah i pioppi non richiedono l'aratura beh tanto meglio compriamo compriamo un mega un mega coltivatore due due mega coltivatori perché prendiamo due mega trattori li acquistiamo entrambi tanto con i soldini che abbiamo possiamo permetterci di acquistare sia per me che per ste tutta l'attrezzatura necessaria allora non credo che uscirà un carico intero perché come vedete sono giusto giusto quattro passate avanti due passate avanti indietro però almeno almeno un peletto ancora ne esce un altro carico se l'è fatto ste adesso ti dico io poi precisamente ste quanto ho fatto così segni nel nell'agenda nera così raga abbiamo precisamente i litri che abbiamo fatto siamo circa al 28% vediamo adesso se riusciamo ad arrivare almeno immagino al 35% ci arriveremo ultimo ultima passata poi possiamo dirci conclusa ultima passata ce l'abbiamo fatta è stato tosto quel campo lì voilà si rispetto agli altri questo è stato veramente veramente complesso allora sulla tua bella agenda nera puoi segnare 64.144 litri ok raga ultimo scarico il mio scarico è l'ultimo così intanto vediamo quanto abbiamo guadagnato nel frattempo che ste fa il il conteggio finale dei litri allora intanto verifichiamo quanto abbiamo guadagnato e abbiamo guadagnato precisamente andiamo nelle finanze abbiamo guadagnato entrate da raccolto 4.032.727 euro wow e difatti adesso siamo a 4.526.760 interessantissimo ma quello che sinceramente mi interessa di più in realtà è i litri che abbiamo guadagnato se ste vuole procedere al resoconto totale e indicarci la quantità effettiva di quello che abbiamo raccolto io intanto vado a restituire trince trebbie e tutto quanto prego rullo di tamburi abbiamo prodotto e raccolto la cifra record di youtube italia alt 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 ci siamo dimenticati ancora due carichi due carichi ci siamo dimenticati ste ah giusto i due carichi fermi tutti vado a recuperare questi due carichi li vendo e vediamo quanto abbiamo guadagnato ok adesso il buon notaio finalmente dopo questi ultimi calcoli doverosi potrà illustrarci effettivamente chi ha vinto la sfida e sono parecchio curioso prego ci illustri tramite la sua agenda nera che cosa ha ha calcolato pensi lei che abbiamo consultato notai da tutto il mondo per validare la cifra record di cipato bene bene ottimo esatto allora ragazzi abbiamo fatto la cifra record di 7 7 7 7 milioni 7 milioni ragazzi 548 144 litri di cipato mamma mia io credo che un bel applauso ce lo meritiamo per questi bellissimi 7 milioni e mezzo di litri direi che la sfida in realtà abbiamo sottovalutato in realtà la quantità che abbiamo che potevamo andare a produrre perché abbiamo perso entrambi in realtà direi che un premio ce lo siamo meritati altamente meritati direi che andiamo a acquistare il premio ma poi per vederli e provarli proveremo nel prossimo gameplay perché siamo arrivati a 1 ora e 40 di video quindi dobbiamo un attimino siamo un po' eh no beh il record l'abbiamo fatto con l'insilato con 2 ore e fischia di video però anche qua ci stiamo avvicinando comunque allora andiamo sui trattori ovviamente andiamo nella categoria trattori grandi quindi l'unico possibile in realtà sarebbe il T9 se no se vogliamo stare un peletto più cauti possiamo andare tranquillamente con il T8 da 400 la bellezza di 435 cavalli che comunque non è poco in realtà questo qua andrebbe fino alla bellezza di 557 cavalli il T9 non lo so cosa mi consigli allora io opterei per il T8 visto che l'ho snodato non esatto non lo so non lo so portiamo troppo non lo so portiamo troppo sì quello che ho pensato anche io tanto comunque ragazzi i terreni non sono mega enormi non abbiamo bisogno di attrezzature da 500 cavalli penso che già 400 quasi 50 cavalli possano bastare per i nostri sporchi e loschi piani di conquista della de terra italica quanti ne prendiamo ne prendiamo ovviamente due ovviamente io non posso comprarlo perché mi l'ho già configurato va bene cingolato e 435 cavalli ottimo due allora prego mi ordini due cingolati da 435 cavalli vai così compra e compra poi tutte le altre attrezzature le andiamo a vedere nel prossimo episodio raga andiamo a vedere questi bellissimi New Holland wow 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 devo dire che bellissimo assolutamente non è male questi due mega trattorozzi ce li siamo assolutamente meritati mega zavorrona davanti mega zavorrona davanti ma volevo a questo punto però dato che ci siamo così facciamo anche poi la foto di copertina giusto così per sport volevo andare a prendere a questo punto dei coltivatori anche perché che non dobbiamo in realtà andare a arare dobbiamo semplicemente tirar giù con il coltivatore allora giusto per provarli andrei a prendere due cogler ling bla 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 che sono 350 cavalli e sono 14 metri ovviamente ne andiamo ad acquistare due così testiamo per benino un attimino questi due bellissimi new holland t8 e vai così così almeno testiamo un secondino raga oramai vabbè arriveremo praticamente a due ore di video ma perlomeno riusciamo anche a testare quello che volevo testare oggi oh 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 iniziamo già a capottarci eh questo campo non è mio no no è mio tranquillo andiamo a 16 chilometri orari ok il che non è male direi veramente ottimo ottimo vieni pure seguimi pure dietro bene ragazzi direi che con questa bella vista eh poi questa bella lavorazione la faremo nel prossimo episodio eh fermati pure se subito dietro di me possiamo concluderci qua ovviamente raga vi ricordo che in descrizione potete trovare i miei link utili compreso il link delle donazioni se volete fare un piccolo supportino al canale ho preso il link per comprare questo ma anche tanti altri giochi scontati e ovviamente anche il link diretto del canale del buon collega mi raccomando andatevi ad iscrivere grazie grazie figurati io raga per il momento con mamma mia 7 milioni di litri vi mando un grosso saluto un saluto a ste un saluto a tutti voi e ovviamente al prossimo video ciao a tutti ciao ciao